Il servizio Locker è un armadio intelligente, un servizio di ritiro presso un armadio dei merce che abbiamo collegato questo armadio a un web shop, quindi il cliente finale della rivendita può ordinare e ritirare presso questo Locker. I vantaggi sono molteplici per la rivendita, la rivendita estende il proprio orario di lavoro attraverso il sistema Locker dove il cliente finale ritira anche fuori orari quelle che sono possibili urgenze che capitano durante il giorno, ha un sistema personalizzabile la rivendita, quindi comunica attraverso questo Locker, attraverso l'applicazione, è in contatto continuo con il proprio mercato e quindi è un sistema innovativo, un sistema che sicuramente è forte per sviluppare ulteriori business. Poi i costi sono piccoli perché comunque il pacchetto comprende il Locker, quindi il nostro armadio, con il web shop. Un web shop, programmarlo oggi, che tante rivendite non ce l'hanno, costa tanti soldi, quindi qua abbiamo un pacchetto unico che con circa 20.000 euro abbiamo compreso tutto. Poi, chiaro, sono soluzioni molteplici, più grandi, più piccoli, poi ci sono dei vantaggi fiscali, quindi c'è un ritorno comunque in base al territorio nord-sud, sono diversi, ma comunque questo è un investimento piccolo per una grande resa. La vendita online oggi è poco presente nel mondo edilizia perché forse il mondo edilizia non è proprio il mondo più effervescente in questo senso, però lentamente parte, quindi la vendita online in generale ha delle crescite pazzesche. Le avrà anche nel mondo delle rivendite, specialmente perché oggi con soluzioni così facili da inserire un shop online nella propria rivendita senza grandi investimenti, ma averlo già ha portato ad uso perché è stato programmato per noi per le esigenze delle rivendite, quindi sicuramente darà una grande accelerazione su questo tema. Oggi al U3 siamo qui proprio per raccontare questa innovazione, per divulgarla. Abbiamo ovviamente 70 persone che operano in tutta Italia a disposizione, i nostri rivenditori che accompagneremo su tutte le richieste che nascono, chiaramente con la squadra interna per accompagnare il nostro cliente, siccome è una cosa anche semplice, però lo vogliamo far bene, il locker è a disposizione per prodotti nostri, ma chiaramente per tutto quello che è un assortimento all'interno della rivendita. Quindi è semplice, va guidato e noi siamo a disposizione. Grazie.